Consigliere Serra, si è appena svolta la commissione urbanistica al centro il tema del porto perché domani ci sarà un comitato di gestione portuale nel quale si voterà e lo farà anche il comune tramite l'ingegnere Ronoce su il progetto DOC-B, quindi per l'accoglienza soprattutto dei passeggeri dell'Albania e l'acquisizione da parte dell'autorità portuale del termine al privato dei Taveri. Che cosa è emerso? No, è emerso, allora diciamo prima di tutto che abbiamo voluto noi fortemente questa commissione per chiarire delle voci impazzite circa la posizione del comune nel comitato di gestione che si terrà domani quindi volevamo sapere la reale posizione del comune di Brindisi e ha partecipato a questa commissione anche il sindaco oltre all'assessore Borri e anche l'assessore Brigante che ha la delega al porto e si è chiarito finalmente che il comune non ha nulla in contrario anche attenendosi a quello che è stato l'ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale, all'acquisizione dell'area antistante e il terminal privato e all'acquisizione del terminal privato hanno solo fatto legittimamente dei rilievi anzi, almeno da quello che è emerso da questa riunione il sindaco ha detto semplicemente che si farà presente che vi sono dei vincoli che non consentiranno l'ampliamento, quindi l'ampliamento del terminal ma che l'operazione è legittima e in più c'è stata solo una richiesta che è stata confermata dal sindaco di avere chiarezza sul prezzo dei due beni sia dell'area di sosta che di proprietà del comune, quindi dovrà essere il comune accederla all'asi e poi l'asi e l'autorità di sistema quindi dice anche legittimamente il sindaco visto che abbiamo avuto una bozza di delibera dalla quale non si evincono i prezzi voler sapere a quanto andremo a vendere sulla base anche delle perizie e delle stime e anche sul prezzo del terminal privato che su questa bozza di delibera non c'è ma sicuramente era ovviamente di pubblico dominio quella che era stata la perizia e l'accordo poi tra le parti per l'alienazione quindi chiariti questi aspetti ritengo non ci saranno prescrizioni particolari quindi che saranno portate domani al di là di quello che ha citato lei nel comitato di gestione cioè dovrebbe procedersi tranquillamente e chiudersi domani da quanto ha carpito quello che è stato detto e del quale io mi ritengo pienamente soddisfatto non è neanche nelle competenze del comune in quella sede rilevare altro ma il comune farà comunque valere dopo il chiarimento dei prezzi di alienazione si manifesterà il proprio favore farà solo rilevare che quella è la stazione marittima che sarà poi provvisoria fino a quando non si completeranno le opere più grandi e si chiederà credo che il sindaco vorrà pur sapere ha annunciato che vorrà pur sapere che fine farà anche il progetto Le Vele che dovrebbe essere poi la stazione marittima definitiva e la principale del nostro porto nulla osserveranno diranno semplicemente che ci sono dei vincoli li faranno valere li faranno verbalizzare per dire in futuro non potremo ampliarla c'è solo questo problema ma pienamente soddisfatti dalle risposte che parlano di una volontà di procedere poi si è parlato di briccole e su quello il sindaco ha garantito e anche questo ci ha pienamente soddisfatti che non vi è stato alcun intervento del comune circa il ripensamento in autotutela relativamente al procedimento amministrativo delle briccole del provveditorato superiore e dei lavori pubblici che autonomamente senza alcun intervento del comune ha ricepito comunque il parere della regione del comune nel senso che quella è una variante al piano regolatore portuale secondo i due enti e il provveditorato ha ricepito rimandando poi al consiglio superiore anche su questo è stata fatta chiarezza non dobbiamo dimenticare che il primo parere positivo poi revocato in autotutela era stato fatto sui medè il primo provvedimento del provveditorato è stato fatto in base ai medesimi provvedimenti ed era positivo quindi lì vorremmo capire cosa ma questo non è da chiedere al comune di Brindisi e non è da chiedere nemmeno non è da chiederlo alla regione Puglia va chiesto al provveditorato il perché del ripensamento sui medesimi pareri che prima erano stati considerati positivi e quindi avevano fatto giungere un provvedimento positivo e poi dopo qualche mese c'è stato questo ripensamento in autotutela quindi io non lo chiederei né al comune della regione Puglia a questo punto lo chiederei e al provveditorato superiore delle opere pubbliche a questo punto lo chiederei a questo punto lo chiederei a questo punto lo chiederei